Il problema dei precari Noi stiamo protestando per il lavoro all'interno degli uffici giudiziari Siamo 2924 tirocinanti della giustizia Inquadrati con la 47esima forma di contratto a nero che esiste in Italia Che è il tirocinio formativo Da anni lavoriamo all'interno delle cancellerie E produciamo, lavoriamo come i dipendenti E siamo di supporto a un personale amministrativo distrutto e demolito all'interno degli uffici giudiziari E non ci viene riconosciuta la dignità dei lavoratori Noi chiediamo che a maggio del 2015 Quando partiranno i conteggi inerenti da finanziarie quest'anno Si instauri e parta un contratto definitivo per questi lavoratori Noi chiediamo che il lavoro non sia e non passi attraverso un contratto finto Che è quello del tirocinio formativo Ma chiediamo altresì che all'interno degli uffici giudiziari È complicato però i ragazzi hanno una tensione, un nervoso Che ormai da anni che non percepiscono stipendi Ormai si percepisce da queste grida, da queste urla E dà anche disponibilità di imparazioni leggermente rieglatanti rispetto a queste Chiediamo comunque che ci venga permesso di completare adesso il percorso formativo E che da gennaio 2015 riusciamo ad essere inquadrati anche con un contratto a tempo determinato Il cavolo veloframbo L'abbiamo portato Quelli c'è riuscita con voi, la carteggierica Ci sono lì a calcolare giustizia C'è riuscita con voi, la carteggierica